Diciamolo pure, in questo momento l'argomento principale riguardo Apple si chiama iPhone 12, non certo iMac, tuttavia sapete come sono fatto io, mi piace provare bene i prodotti prima di recensirli, 3-4 giorni non mi bastano, per cui li ho presi entrambi, le recensioni usciranno, ma credo per la prima settimana di novembre. Oggi parliamo invece di iMac 27 pollici 2020, anche questa è una recensione che ha tardato ma ha tardato più di quanto avessi previsto, per la verità non per colpa mia, vi spiegherò meglio nel corso di questa recensione. Sono 5 gli argomenti principali che vorrei affrontare con voi in questa recensione e ovviamente trascurerò le banalità, le ovvietà, perché alla fine è una macchina che rimane più o meno uguale a se stessa da 7 anni, per cui insomma andare a dire che lo schermo è da 27 pollici e la sua risoluzione, insomma mi sembra assolutamente superfluo. Tuttavia ci sono questi 5 aspetti principali su cui vorrei ragionare con voi, più alcune considerazioni veloci iniziali. La prima riguarda il fatto che c'è, ormai è stata annunciata la transizione ad Apple Silicon e quindi entro due anni noi già sappiamo che Apple ha in programma di sostituire in tutti i suoi computer, quindi anche nell'iMac, i processori, passando da quelli attuali di Intel, quindi con la tecnologia x86-64, ad una tecnologia ARM simile a quella di iPhone, iPad e via discorrendo, con dei chip proprietari che rientrano in questa nuova famiglia denominata Apple Silicon. Questa cosa succederà, vi dicevo, nel corso di due anni, ma non sappiamo esattamente quando arriverà un iMac da 27 pollici o comunque di questi più grandi, insomma, con tale tecnologia. L'argomento l'ho affrontato già più di una volta in passato, ma vi rimando qui sopra ad un approfondimento che secondo me è quello più riepilogativo, che riguarda la mia ipotesi di roadmap, quindi di come avverrà questa transizione con tutti i vari lanci. Quindi c'è questo passaggio in arrivo che può lasciare parecchi dubbi, sicuramente, dubbi che in realtà nessuno al momento può completamente chiarire, ma di certo ci possiamo fare una serie di ragionamenti sopra e quindi anche delle valutazioni che magari spostiamo più verso la fine del video. In questo momento, invece, un primo argomento molto molto leggero che vorrei affrontare riguarda il design, perché sì, è lo stesso, è lo stesso credo dal 2013 e comunque precedentemente era frontalmente praticamente uguale, in quell'anno fu semplicemente assottigliato dai lati, quindi è un computer che sicuramente dà un senso veramente forte di déjà vu. Io ho avuto parecchi iMac in passato e onestamente vederlo sulla scrivania non fa più quasi impressione, insomma, è sicuramente un bel computer, ma non dà quell'impatto che poteva dare un tempo. E certo questa cosa può essere considerata negativamente, ma bisogna ammettere che ancora oggi è un bel computer. La cosa che forse stona di più all'occhio è il fatto che abbia queste grandi cornici nere, perché ormai i monitor sono sempre di più indirizzati verso il boardless, comunque con questi cornici veramente molto sottili, però è una cosa che io ho già detto in diverse occasioni, non vedo tanto di cattivo occhio, per due motivi principalmente. Il primo è che questa cornice nera onestamente non è come su uno smartphone o un tablet, dove il fatto che aumenta la superficie dello schermo ci può creare problemi di ergonomia, perché appunto ingrandisce il dispositivo. Qui parliamo di un desktop, sta per definizione sulla scrivania, e avere un centimetro o due in più sul bordo onestamente non ci cambia la vita. Pensate che ci sono addirittura dei tv come la serie The Frame di Samsung, che si basa proprio sull'idea di mettere questi grandi cornicioni stile quadro, proprio per dare importanza anche allo schermo e creare anche arredamento. Quindi, argomento del design sicuramente con un punto interrogativo, perché credo che quando sarà rinnovato con i chip Apple Silicon probabilmente cambierà anche quello, ma io mi auguro che vadano a aumentare gli schermi, perché l'ho detto più volte, per me il 27 pollici è un po' limite, insomma, per attività professionali, perché spesso si deve o aggiungere un secondo schermo e trovarne uno che si abbini anche esteticamente bene all'IMe, che non è facilissimo, e comunque rimane uno schermo che non è molto grande da utilizzare singolarmente. A quel punto sarebbe meglio un 30 o ancora di più un 32 pollici, ma vedremo cosa succederà in futuro. Per il momento concentriamoci su questi cinque aspetti di cui vi vorrei parlare. Il primo dei quali riguarda lo schermo e in particolare la nuova opzione con Nano Texture, una tecnologia, una lavorazione che Apple ha introdotto con il Pro Display XDR, ovvero il monitor 32 pollici 6K presentato insieme al Mac Pro e che adesso arriva anche sull'iMac. L'opzione costa ben 625 euro e costa 1000 euro sul Pro Display XDR, ma comunque capisco che la cifra sia impegnativa. In realtà la cosa più difficile da digerire è il fatto che non vada tecnologicamente a migliorare quello che è il pannello, cioè non ne aumenta la risoluzione che rimane di 5K, non ne aumenta, non so, la luminosità o altro, è semplicemente una lavorazione. Certo, una lavorazione complicata perché non è il solito metodo che si utilizza per creare degli schermi opachi, dove c'è un layer aggiuntivo che ha parecchi difetti perché spesso riduce la vividezza dei colori, riduce il contrasto, in alcuni casi, soprattutto nei modelli di fascia bassa, crea anche una sorta di pattern sopra le immagini che ne riduce la definizione, insomma qualcosa che alla fine dei conti va un po' a danneggiare quello che è lo schermo. Ma in questo caso siccome si va a lavorare direttamente la parte, la copertura in vetro del display che poi è integrato nel pannello, cambia radicalmente la resa, il risultato. In effetti credetemi è la prima cosa che ho notato appena ho scartato e acceso questo nuovo iMac venendo dal precedente iMac Pro. Cambia tantissimo la qualità delle immagini perché queste non vengono contaminate da quello che c'è intorno a noi. E non tanto per i riflessi dovuti alle luci dirette sullo schermo perché è un errore che fanno molti, pensano che il problema sia quello, mentre in realtà quella è una cosa che va evitata a prescindere. Chiunque abbia una postazione di lavoro fissa deve posizionare il computer in modo tale da non avere delle sorgenti che vanno diritte sul display. Ad esempio io ho la finestra dietro al computer, chiunque lavori professionalmente in questo settore vi dirà che posizionare bene il computer, lo schermo è la cosa principale. Ma a parte questo il problema che avevo ad esempio con l'iMac Pro che prima era nella stessa identica posizione era che bastava un minimo di illuminazione nell'ambiente, cosa tra l'altro assolutamente normale e necessaria, che tutto quello che era alle mie spalle si rifletteva nello schermo andando a rendere più difficoltosa la visione per non parlare poi dell'impatto sulla gestione dei colori. Quindi la cosa che si nota con questo schermo veramente è che ci mostra un'immagine proprio pulita senza contaminazioni esterne e che si vede in maniera assolutamente perfetta e non è utile soltanto per i professionisti dell'immagine, che sia nel campo fotografico, video eccetera eccetera, ma anche per chi lavora tanto tempo al computer perché credetemi che aumenta in maniera notevole il comfort visivo. Quindi anche se questa opzione capisco che sia difficile da digerire soprattutto per gli amatori, magari per i meno esperti, ai professionisti io la consiglio assolutamente più di altre opzioni che possono migliorare magari le prestazioni. La seconda cosa di cui vorrei parlare riguarda le connessioni perché da questo punto di vista ho notato un passo indietro rispetto all'iMac Pro da cui venivo. In realtà questo computer si avvicina parecchio alla versione Pro in quanto adesso abbiamo la possibilità di configurarlo in fase d'ordine con l'Ethernet a 10 gigabit, abbiamo la FaceTime HD 1080p e non quella 720p, abbiamo il chip T2, abbiamo anche il lettore DSD in standard UHS-II, però ci sono solo due porte Thunderbolt 3 USB-C e 4 USB-A. E onestamente la proporzione secondo me non è molto vantaggiosa, preferisco le quattro porte Thunderbolt 3 USB-C che ci sono nell'iMac Pro che tra l'altro troviamo anche del MacBook Pro da 16 pollici ma anche nel 13 pollici nella versione top di gamma perché comunque ormai moltissimi dispositivi utilizzano questa porta, tanti però sono semplicemente USB-C come possono essere dei dischi, delle schede audio e magari non hanno la connessione in cascata in uscita per sfruttare il desi chain e quindi occuparle due porte veramente si fa in un attimo, infatti ho avuto non poche difficoltà all'inizio per riportare tutti quelli che erano i dispositivi che utilizzavo con l'iMac Pro su questa nuova configurazione proprio perché la ridotta quantità di porte Thunderbolt 3 onestamente è un po' scomoda. Il terzo aspetto che vorrei affrontare è quello delle configurazioni ma vi dico subito che sul sito troverete la recensione che è linkata nella descrizione di questo video dove andrò più nel dettaglio da questo punto di vista dove ci saranno più consigli, più numeri perché qui vado assolutamente a memoria e la prima cosa che voglio dirvi è che il modello base da 2.199 euro ha un processore secondo me già molto valido per moltissimi utilizzi perché è un i5 6 core 12 threads che comunque spinge abbastanza bene, il problema è che ha 256 gigabyte di storage che a mio avviso sono al di sotto del minimo necessario che per quanto mi riguarda sono 512 gigabyte. Certo è meglio 1 tera, 2 tera, 8 tera insomma ma non quando si va ad acquistare direttamente da Apple perché costa assolutamente uno sproposito quindi il mio consiglio è quello di andare sul minimo indispensabile e ripeto dal mio punto di vista sono 512 gigabyte infatti è il taglio che ho scelto nel mio iMac e ho tra l'altro 200 gigabyte all'incirca liberi perché poi tengo all'interno del computer giusto il sistema operativo, le applicazioni e i documenti essenziali mentre tutti i progetti sono all'esterno su molteplici dischi, backup e via discorrendo. Quindi dicevo il taglio da 512 gigabyte per il disco secondo me è il minimo necessario e quindi è conveniente già considerare il Mac nella configurazione intermedia da 2.399 euro perché oltre a questo disco più grande ha anche un processore leggermente più veloce ma rimane un i5 sempre con 6 core e 12 threads. Ora il discorso è che ci sono altri due aspetti ovviamente molto importanti in una configurazione ma il primo di questi cioè la RAM praticamente vi consiglio di non considerarla. Infatti abbiamo 8 gigabyte su tutte le configurazioni stock offerte da Apple e la RAM aggiunta direttamente in fase d'ordine costa uno sproposito ma fortunatamente questa è una caratteristica che ancora si può modificare in un attimo perché c'è uno sportellino sul retro che si apre praticamente senza svitare una vite. L'upgrade è semplicissimo non invalida assolutamente la garanzia e difatti io che ho preso questo computer a noleggio tra l'altro una cosa che approfondiamo più avanti ho comunque chiesto a C&C l'Apple Premium Reseller che mi ha fornito la consulenza e poi anche il computer di darmi anche 64 gigabyte tra l'altro me li sono fatti spedire e li ho aggiunti io perché è veramente un'operazione di una semplicità assoluta. E quindi questo aspetto qui della RAM per quanto sia bassa nella dotazione offerta da Apple mannaggia loro alla fine dei conti è una cosa che consiglio di non considerare proprio prendete gli 8 gigabyte di base e poi aggiungetene in quattro slot quello che vi è più comodo. Il discorso diventa invece più interessante per quanto riguarda la scheda grafica perché sia nel modello base che nel modello intermedio abbiamo la Radeon Pro 5300 che è una scheda ovviamente con non grandissime prestazioni in termini proprio grezze della GPU però che è una scheda comunque moderna il che significa che ha comunque all'interno delle tecnologie che le consentono pur con un numero di unità computazionali inferiori rispetto alle schede della generazione Vega di essere effettivamente poi più performante all'atto pratico. Ad esempio per chi lavora nel campo video questa scheda ha comunque all'interno i codec sia per l'H264 che per l'HVC insomma riesce a essere abbastanza efficace. Tra l'altro poi ricordate sempre che in questi iMac oltre al chip T2 che ha tante accelerazioni hardware per il multimedia in generale c'è anche la scheda grafica integrata di Intel nel processore che è una UHD 630 se ricordo bene che comunque anche lei con Intel Quick Sync va a contribuire alle fasi per esempio di codifica e decodifica del video quindi perché si occupa di questo settore in realtà già la scheda grafica base il suo lo fa insomma a meno che poi non si vada ad avere ovviamente delle esigenze un po' più specifiche più evolute. Però dicevo questo è sicuramente un aspetto che può farvi propendere per un passaggio poi al modello top che è quello da 2699 euro che all'interno un core i7 quindi in questo caso saliamo di grado per il processore con 8 core e 16 threads ma che rimane poi sempre con la stessa dotazione sia per quanto riguarda ram che per il disco quindi 8 gigabyte e 512 però si passa alla radio 1 pro 5500 quindi una scheda che ha sicuramente maggiori prestazioni non è la stessa versione che abbiamo ovviamente nel nel macbook pro da 16 pollici perché quella è la versione mobile che è meno performante ma comunque rimane una scheda non completamente diversa diciamo alla 5300 ovviamente da prestazioni migliori ma non è radicalmente diversa. Il primo passo importante sia con l'opzione in fase d'acquisto che si ha sul modello top di gamma di passare alla 5700 e ancora di più alla 5700 xt con 16 gigabyte di memoria gddr6 che è la gpu che ho scelto. Per quanto riguarda la scheda grafica vi segnalo anche una piccola curiosità cosa che io onestamente non pensavo ovvero che i 16 gigabyte di memoria gddr6 in effetti vengono sfruttati tantissimo già con applicazioni non dico leggere però insomma senza attività molto impegnative con ad esempio photoshop mentre si hanno aperti altre applicazioni di sistema che possono essere safari le note mail e cose del genere tranquillamente 8 gigabyte vengono occupati e questo è un bene perché quando si usa la ram vuol dire che poi il computer ha a disposizione dei dati più veloci da da cui attingere quindi ottenere prestazioni migliori e quando lavoro in ambito video arrivo facilmente a occupare anche il 90 95% di questa ram di questa gddr6 quindi assolutamente una configurazione un dato insomma che pensavo fosse sovradimensionato ma che poi nell'utilizzo reale si è dimostrato assolutamente utile passiamo alle prestazioni con l'altro punto di cui vorrei discutere e siamo al quarto ovviamente avendo io scelto una macchina con il processore più potente di 9 10 core e la gpu più potente la 5700 xt con 16 gigabyte di memoria e 64 gigabyte di ram è chiaro che il computer sia molto performante però nei primi giorni in realtà ho avuto dei problemi problemi che si sono risolti più avanti con un aggiornamento di catalina perché ancora questo è l'ultimo sistema operativo rilasciato Big Sur è nelle fasi finali insomma della beta ritardato un po' e questi problemi riguardavano la scheda grafica li avevo con tutti gli applicativi Final Cut, Resolve, Premiere ed erano problemi di diverso tipo crash, rallentamenti e via riscorrendo adesso fortunatamente sono stati risolti al 99% nel senso che mi è capitato una volta di avere un errore su Photoshop dove chiaramente era indicato per i driver della scheda grafica quindi probabilmente questi non erano ancora ottimizzati e mi auguro che con Big Sur arrivino ancora di più a maturazione però allo stato attuale problemi non ce ne sono più inizialmente ne ho avuti ed è per questo che la recensione è stata rimandata più volte insomma nel corso dei precedenti mesi comunque vi dicevo le prestazioni ovviamente sono molto elevate e arrivano in molti casi a superare anche quelle dell'iMac Pro che utilizzavo precedentemente chiaramente sono due macchine un po' diverse dal punto di vista della tecnologia interna però devo dire che Apple ha fatto secondo me un buon lavoro anche da un punto di vista importante che è quello della areazione nel senso che in realtà non l'ha cambiata non è migliorata come quella dell'iMac Pro e questo è un peccato perché l'iMac Pro in effetti riesce a tenere temperature un po' più basse rispetto a questo computer che come succede un po' tradizionalmente per i computer Apple a livello di processore arriva molto facilmente a toccare anche più volte i 100 gradi che è un limite insomma che rimane nel range di sicurezza ma a me personalmente non fa piacere vedere così spesso raggiunto ma rimane una macchina veramente incredibilmente silenziosa più silenziosa dell'iMac Pro accende le ventole ad alto regime in pochissime occasioni e comunque riesce a mantenere le prestazioni sempre molto molto elevate ho eseguito Ginebench per diverse volte in sequenza e certo i 5 GHz si vedono per pochissimo ma questo è normale nel turbo boost tipico ormai di Intel in questa generazione anche nelle passate sappiamo che funziona così però devo dire che mantiene abbastanza bene frequenze di circa 4,3 GHz e scende dopo diverse esecuzioni di Cinebench quindi che lo stressa parecchio in multicore ma mai sotto i 4 GHz mentre la frequenza clock base di 3,6 quindi thermal throttling non se ne vede assolutamente ma riesce anche a rimanere abbastanza efficace quindi anche in fase di esportazione chiaramente ci sono delle differenze più o meno evidenti a secondo del software che si utilizza con Final Cut dove si nota il maggiore miglioramento in assoluto ma comunque anche nella operatività sulla timeline parlando sempre di montaggio video ho notato diversi miglioramenti anche per le fasi di stabilizzazione di color correction e via discorrendo quindi una macchina che ovviamente perché comunque anche molto costosa così configurata va assolutamente bene io mi sono permesso diciamo di fare questi upgrade forse in alcuni casi non strettamente necessari perché comunque ho notato che avendolo preso a noleggio l'impatto sulla rata era davvero minimo e quindi ho scelto insomma di intanto togliermi tra virgolette lo sfizio di vedere come andava questa macchina così configurata ma soprattutto di renderla così prestante da farmi sentire la differenza rispetto all'iMac Pro da cui venivo che comunque è una macchina tutt'oggi molto performante quindi questo è il computer che io ho testato ma vi assicuro che già l'i5 si comporta assolutamente bene e che ovviamente l'i7 della configurazione top preconfigurata con 8 core è già praticamente sufficiente per moltissimi ambiti di applicazione il mio settore è questo della grafica, della fotografia, del video e in tutti questi ambiti vi faccio vedere anche qualche immagine con i benchmark in sovraimpressione ma vi ricordo che in descrizione trovate un approfondimento più completo si è comportato assolutamente molto molto bene ci sono ovviamente dei settori che sono parzialmente correlati anche alla mia attività come quello dell'audio dove vi posso dire che il computer ovviamente va una scheggia la programmazione assolutamente gestita benissimo poi se avete a che fare anche con il 3D sicuramente anche la componente della GPU aiuta e tra l'altro questo è uno dei pochissimi Mac che io ho avuto negli ultimi, non lo so, 20 anni che si comporta molto bene anche in ambito gaming forse anche il MacBook Pro 16 pollici mi ha un po' stupito da questo punto di vista quello che utilizzo io con la 5500M ma questo ovviamente va ancora meglio e arriviamo al quinto ed ultimo punto domandandoci se ad oggi conviene acquistare questo computer perché ovviamente ha questa spada di Damocle sulla testa che si chiama Apple Silicon transizione che in realtà non è ancora iniziata perché non è stato neanche annunciato il primo computer con questa tecnologia che dovrebbe arrivare più o meno a novembre e la disponibilità potrebbe essere per Natale o forse anche per il 2021 ma diciamo che nel corso dei due anni di qui in avanti avremo una transizione completa e quindi arriverà sicuramente anche un iMac che avrà all'interno i nuovi chip con tecnologia ARM e Apple Silicon ma forse anche un nuovo design magari anche uno schermo più grande di quello da 27 pollici insomma sicuramente sempre vale il discorso che appena esce un nuovo computer inizia il countdown per il successivo ma in questo caso abbiamo l'aggravante di questa transizione che potrebbe rendere più facilmente obsoleti i precedenti computer e questo è un dubbio che ovviamente nessuno può sfatare in nessun modo dobbiamo ovviamente fare un salto nel futuro per sapere come saranno valutati i Mac di oggi quanto Apple li supporterà negli anni a venire la mia personale ipotesi che oltre i due anni in cui sarà necessario effettuare questa transizione quindi ci sarà completo ovviamente supporto per tutti i computer Intel questa volta Apple rispetto alla vecchia transizione avvenuta 15 anni fa avrà la necessità, forse anche l'obbligo di mantenere compatibilità per più tempo io credo almeno 4 anni di compatibilità completa anche con i computer con chip Intel quindi significa che nel complesso la mia personalissima stima è di avere 6 forse anche 7 anni di completa e perfetta operatività chiaramente questo non significa che forse si avrà l'ultimo sistema operativo anche perché poi bisogna vedere le applicazioni di terze parti se saranno immediatamente aggiornate se saranno supportate anche per le vecchie versioni però c'è questa tecnologia che ha realizzato Apple di un binario universale che dovrebbe garantire una transizione molto morbida e quindi mantenere anche una compatibilità con il passato ripeto, io immagino una durata del supporto di questo tipo che ovviamente è abbastanza buona ma magari non è quella ottimale che si potrebbe avere ci sono molte persone che avendo comprato un iMac addirittura 8-10 anni fa ancora oggi lo utilizzano quindi questo sicuramente non è il momento migliore per un investimento a lunghissimo termine va anche detto che però non è certamente scontato che il passaggio sia del tutto indolore magari i primi computer con questa nuova tecnologia potrebbero andare incontro anche a difetti di gioventù e quindi l'attesa, scusate un cane che abbaia che purtroppo qui c'è sempre quindi l'attesa di oggi di due mesi potrebbe poi diventare un'attesa di 12 mesi e poi potreste vedere che il computer ha qualche divetto e allora gli aspetto la prossima versione poi diventano tre anni di attesa e magari avete necessità oggi di un computer quindi sono delle valutazioni che ovviamente dovete fare in relazione a quelle che sono le vostre necessità però per quanto riguarda le aziende, i professionisti o comunque di persone dotate di partita IVA devo dire che questo è il momento migliore per pensare al noleggio che infatti è la cosa che ho fatto io affidandomi agli amici di C&C il più grande Apple Premium Reseller italiano dove c'è un settore business molto seguito molto sviluppato infatti come nel mio caso troverete delle persone con cui proprio dialogare e chiedere anche consigli delle valutazioni per la spesa migliore riguardo al vostro business la durata, nel tempo e via riscorrendo e poi il noleggio di per sé è più economico rispetto all'acquisto è anche più vantaggioso rispetto al leasing perché ci sono dei vantaggi in termini fiscali che potete approfondire con il vostro commercialista c'è un'assicurazione inclusa durante tutto il periodo del noleggio e soprattutto non dovete sopportare nessuna spesa importante all'inizio perché avete semplicemente la rata che potete definire se mensile, trimestrale insomma come vi viene più comodo e al termine del periodo non so ipotizzate due anni in questo caso troverete un mercato diverso e potrete valutare di magari prendere un hardware più aggiornato e potreste anche pagare di meno nella rata o pagare di più insomma in base a quelle che sono le vostre necessità cambiando computer avendo quindi un computer aggiornato per le aziende insomma per chi fa professionalmente un lavoro che è anche basato sull'hardware che utilizza questa è una soluzione davvero molto molto conveniente ma lo diventa di più in questo periodo storico dove c'è questa transizione in arrivo per i privati la situazione è un po' più complicata però resta di fatto che per avere ad oggi un Mac desktop con prestazioni al massimo anche sul fronte grafico perché sennò c'è anche il Mac mini che più o meno se la cava praticamente questa è l'unica soluzione a parte come è successo di recente con il canale Telegram delle sagge offerte il fatto di aver trovato per esempio un iMac 27 pollici di generazione precedente a 1500 euro una soluzione che se dovesse ricapitare comunque ad oggi per un privato è molto valida perché è una macchina ancora con buone prestazioni e che con la spesa bassa insomma che si affronta non crea grossi problemi anche se da qui non so a 4-5 anni dovesse dimezzare il suo valore insomma mentre per un'azienda potrebbe essere un discorso più impegnativo comunque vi ringrazio per aver visto questo video che spero sia stato di vostro interesse vi ricordo che ovviamente like commenti condivisioni sono molto molto graditi e noi ci vediamo al prossimo video ciao